Ciao a tutti ragazzi, io sono la mia, oggi stiamo di nuovo qua su un video in cui vi faccio vedere un mio nuovo acquisto E la Hero 4 Session, ok? Non era il casco ovviamente perché questo è vecchissimo Comunque appunto mi sono comprato la Hero 4 Session dopo la mia carriera con la Hero 3 Silver Che si è svampata tipo la scorsa estate e per un bel po' appunto non abbiamo usato nessuna GoPro A parte quella di mio zio che è una Hero 3 Black, quindi sì Mi sono comprato la Hero 4 Session appunto perché volevo riportarvi i video che facevo in bici Che vi stavano appunto piacendo un sacco e ho preso la Hero 4 Session perché è veramente una figata assurda Cioè come vedete l'ho messa in questa posizione che mi permetterà appunto di fare i POV I POV, cosa che prima non potevo fare con una GoPro normale perché appunto con la sia custodia e tutto Prendevo un sacco di spazio tipo avevo un malloppone qua davanti e quindi niente Poi pesava anche un pochetto troppo magari avevo paura che facendo qualche salto un pochetto potente Gli sbalzi appunto potessero anche far staccare la GoPro stessa quindi non mi sarebbe molto piaciuto Ovviamente comunque questa GoPro è veramente una figata assurda cioè è fantastico Lasciate stare la maschera che è sporchissima perché da tipo la scorsa estate che non la tocco No che cazzo dico ho fatto un video un po' di tempo fa Un po' di tempo fa quando? Inizio estate penso non lo so non mi ricordo In cui sono morto Il video in cui sono morto ok perfetto E niente appunto io ho preso questa Hero 4 session perché a parte che le Hero 4 costavano anche un pacco di soldi E non volevo spendere così tanto e poi portando indietro diciamo le Hero 3 session alla GoPro stessa L'abbiamo inviata, mio padre l'ha inviata da qualche parte Ci hanno fatto uno sconto e abbiamo preso le Hero 4 session perché niente ci conveniva un sacco secondo me Perché è un Hero molto molto comoda Dato che con un ultimo aggiornamento mi pare di 4-5 mesi fa della GoPro session Ti permette appunto di cambiare le impostazioni anche tramite la GoPro stessa Cosa che prima non si poteva fare Si poteva solo fare dall'app del telefono e quindi magari era un pochetto scomodo prendere sempre il telefono in mano E niente era scomodo E adesso invece con queste nuove impostazioni ti puoi mettere anche lì senza telefono E far tutto molto tranquillamente Comunque il telefono io lo uso spessissimo praticamente sempre perché è veramente molto comodo E la cosa molto figa di questa GoPro Ora la stacco da qua Ok la togliamo da questa particciola Ok non lo so del casco Tra l'altro ho messo la cosa L'attacco in un modo un po' strano perché tipo qua c'è un po' d'aria E va bene solo che la session non pesa tanto Se no avessi un altro GoPro si staccherebbe l'attacco penso Comunque vi faccio vedere che appunto Ok qui c'è il tastino ovviamente sopra Il classico delle GoPro E poi qua dietro c'è un altro Ok la vedete si si vede benissimo E con questo tastino ovviamente si può entrare nel menu Cliccando ho cliccato Aspettando due secondi appunto Ci fa vedere tutto Ma si vede tipo se io faccio un po' così Non lo so non lo so però vabbè Questo è il menu appunto c'è sempre il classico suono della GoPro E niente appunto E' molto comodo cambiare appunto le impostazioni anche della GoPro Anche perché lo trovo un menu molto molto più comodo rispetto a quelle delle Hero normali Perché tipo qua poi hai tutte le impostazioni su un'unica schermata 1080, 60 fps, queste cose qua Basta che ci clicchi sopra in uno schermato dove ci sono tutti E ti cambia ogni cosa Non è che devi entrare nel sottomenu di ogni risoluzione, fps, no E' veramente molto comodo E poi appunto per registrare basta cliccare qua sopra E lui comincia a registrare Ora esce pure la, ecco la lucetta rossa E comincia appunto a registrare Qua sopra ti segna comunque la risoluzione, il modo Tipo wide oppure medium Poi le ore rimanenti per lo spazio della registrazione La batteria, il, il coso La modalità di registrazione Quindi qui sto facendo un video che sta durando 23 secondi, 24 secondi, 25 secondi E appunto segna tutto Poi appena noi vorremmo spegnere la registrazione Facendo semplicemente così Spegne sia la registrazione sia la telecamera Quindi ottimizza anche un sacco la batteria E niente appunto Io porterò appunto dei video con Con Star Hero 4 qua E spero che appunto possa piacervi un ritorno Sulle nostre avventure in cui ci andiamo ad ammazzare E spero che appunto possano Intrattenervi Perché a me intrattengono moltissimo Cioè proprio muoio ma Va benissimo Dai Ci sta Borbello Quindi io praticamente la terrò sempre così Ora devo vedermi ancora bene l'angolazione Perché ovviamente È molto importante l'angolazione quando fate dei video Ok posso mettermi così Tipo Sì vedete me Il casco e tutto Figata Magari vi porterò anche un video su Sulla mia bici Che dovevo già farvi vedere un bel po' di tempo fa Ma non ve l'ho mai fatta vedere proprio in dettaglio E E niente appunto Se volete altri video in particolare basta chiedere E E boh Noi ci vediamo appunto In un prossimo video Con la gopro Spero Se non mi si svampa prima No spero di no Se no bestemmi Se no bestemmi